la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani dedicandoci ampiamente al quotidiano il mattino, partiamo dalla prima pagina ieri ennesimo attacco alla Russia su degli aerei che stavano attraversando la Turchia vediamo il titolo per il mattino Turchia-Russia, la guerra fredda abbattuto un getto al confine siriano Putin, effetti tragici Obama si schiera con Erdogan lotta al terrorismo tensione alle stelle Ankara, i cacci hanno sconfinato giallo sui piloti gli anti-Assad li abbiamo uccisi andiamo avanti con gli articoli correlati le misure Renzi più fondi a sicurezza ai giovani a rischio gli sgravi per il mezzogiorno le inchieste incubo attentati turisti in fuga dal nord Europa andiamo a centropagina De Girolamo spiata del basso sapeva il sottosegretario dei trasporti intercettato un anno prima del Benevento Gate sulle nomine le pressioni per la fidanzata dell'esponente Democrat che però non risulta indagato e poi la sanità è l'ora di cambiare per il commento mentre i protagonisti lui e Fango lei il complotto è chiaro andiamo di taglio basso sempre su questa prima pagina del mattino nazionale Veto a Bassolino il PD ora ci ripensa primaria aperta all'ex sindaco ma il Nazareno punta su un altro candidato e poi per i focus del mattino provincia addio no costano un miliardo la ragioneria pubblica le spese dello Stato questa è la prima pagina del mattino nazionale ora andiamo sulle pagine di primo piano e parliamo proprio degli attacchi del raid aereo l'ha battuto un aereo della Russia che aveva sconfinato su territorio turco vediamo il titolo la guerra in Siria la Turchia sfida la Russia jet abbattuto Putin furioso ad Ankara sconfinato per 17 secondi Mosca siete complici dei terroristi un F-16 dell'aviazione turca colpisce il bombardiere russo su meno 24 i piloti si lanciano con il paracadute e cadono in territorio siriano sorte incerta un colpo alla schiena da parte dei complici del terrorismo questo è il durissimo commento del presidente russo Vladimir Putin l'abbattimento del bombardiere Sukhoi 24 da parte di un velivolo F-16 turco a ridosso del confine siriano riporta la regione indietro agli anni 50 del secolo scorso ai tempi della guerra fredda e vediamo di taglio basso Obama si schiera con il paese nato giusto difendersi riunione d'emergenza del consiglio atlantico su richiesta di Ankara l'errore in Siria i russi attaccano non l'Isis ma i ribelli moderati per sostenere l'amico Assad e poi gli europei prevale la prudenza e l'invito a mediare Mogherini evitare nuove fasi di tensione lasciamo questa pagina andiamo avanti lasciamo anche questo tema andiamo sulle pagine anche su un altro argomento che abbiamo visto in prima pagina si parla dell'annuncio del premier Renzi per quanto riguarda il potenziamento dei servizi di sicurezza l'abbiamo visto anche dal titolo a risentirne potrebbe essere ancora una volta il mezzogiorno vediamo infatti l'annuncio del premier Renzi 80 euro anche alle forze dell'ordine bonus ai 18 anni il premier in Campidoglio un miliardo per la sicurezza e un altro per la cultura l'Italia si riconosce nella grande coalizione con gli USA e gli alleati la strategia risponderemo al terrorismo puntando di più sull'istruzione e sull'arte entro l'anno il corpo della forestale sarà inglobato dall'arma dei carabinieri e andiamo nella pagina successiva vediamo per quanto riguarda i fondi vediamo la manovra a sud l'emergenza terrorismo rischia di pensare sugli sgravi stabilità via litera alla camera dubbi sulle risorse il presidente del senato impressing lo stato non può fermarsi a eboli e poi la decisione si profila la scelta tra la proroga degli sconti per neoassunti e il sostegno alle imprese che investono lo scontro l'utilizzo dei fondi ad hoc per il meridione non trova tutti i ministri d'accordo più fondi per la sicurezza e per la cultura dice il premier Renzi alla vigilia dell'avvio della manovra alla camera per la quale ieri sono stati indicati tempi e relatori e subito la preoccupazione corre ai fondi destinati al sud che dovrebbero riguardare tanto la proroga del bonus per i nuovi assunti quanto gli sgravi per le imprese che vogliono assumere nel mezzogiorno secondo voci filtrata in serata da Montecitorio le nuove risorse decise per sostenere lo sforzo straordinario delle forze dell'ordine in occasione del giubileo e il rilancio ulteriore delle iniziative per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale arriverebbero dalla flessibilità non sarebbero cioè toccate quelle che almeno in teoria dovrebbero essere destinate al sud questo quanto meno è quello che emerge da Montecitorio andiamo avanti di taglio basso abbiamo rinunciato ad essere grande potenza il futuro dell'Italia si gioca tutto sulle alleanze di snenghi storico e accademico paghiamo le conseguenze della seconda guerra mondiale non ci sono ferro e carbone siamo costretti a comprare aerei i precedenti nel primo conflitto l'intervento lo decise il fascismo educò invece alla guerra e lasciamo questa pagina andiamo avanti andiamo ora invece sulle pagine del mattino di Salerno si parla della sanità e della nuova riforma prevista dall'Unione Europea il titolo caos ospedali SOS al governo via al nuovo orario per i medici imposto dall'Unione Europea proroga o flop assistenza più fondi e sblocco del turno di presidenti di regione a Roma il manager ma la manovra si può disapplicare torneremo su questo tema nella pagina successiva ora andiamo avanti i conti debiti ASL pronto il piano da 72 milioni e poi l'inchiesta paziente deceduto in 8 a giudizio c'è anche brigante per quanto riguarda l'istruzione scuola la beffa delle 959 assunzioni un prof precario su 3 è già in cattedra un potenziamento delle materie solo virtuale destinato a restare fermo al palo almeno per quest'anno scolastico il proposito della buona scuola di rafforzare effettivamente gli organici dei docenti nelle scuole salernitane scatta stamattina all'ufficio scolastico di via Monticelli l'individuazione di 959 insegnanti destinatari di proposta di assunzione nell'ambito della fase C del piano straordinario di immissione in ruolo nazionale centinaia di prof precari risponderanno alla convocazione per procedere alla stipula dei contratti dopo anni di supplenze e incarichi a tempo per loro il MIUR ha programmato un piano di utilizzo ai fini del potenziamento degli organici delle scuole e stiamo su questa pagina a centro pagina muore il padre del boss maiale il questore viete i funerali show stop ai cavalli e alla banda musicale il rito religioso blindato in chiesa solo i parenti più stretti dell'ex padrino della Piana del Sele che non partecipa alla funzione e ancora il blitz maxi evasione finisce in carcere il re delle truffe per quanto riguarda invece la questione porti Napoli-Salerno porto business da 34 milioni ecco i rischi dell'accorpamento infine di taglio basso le riflessioni se i vigili si fermano anche l'educazione latita si parla della stop dei vigili in vista di luci d'artista della rassegna natalizia di Salerno lasciamo questo tema andiamo sulle pagine di primo piano quindi sul tema che abbiamo che ha aperto la pagina del mattino di Salerno si parla della nuova proposta dell'Unione Europea per gli orari più flessibili per i medici negli ospedali ma arriva lo stop per quanto riguarda proprio questa iniziativa dai presidenti di regione che temono il rischio garanzie per la sanità vediamo infatti il titolo taglio sugli orari rischio ospedali proroga o caos via libera le nuove norme dell'Unione Europea sul lavoro ma così meno garanzie per l'assistenza ricordiamo che in alcune regioni vi è il blocco del turnover quindi il piano potrebbe lasciare diversi orari senza medici vediamo le regioni al governo risorse per sbloccare il turnover oggi anche il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca sarà a Roma vediamo come il nome di questo nuovo progetto il proposto dall'Unione Europea si chiama antistress praticamente vuole garantire il giusto orario di lavoro quindi per garantire il benessere psicofisico dei lavoratori garantire cure di qualità ed appropriatezza ai cittadini e anche per questi motivi che ieri la CGL Funzione Pubblica ha diffidato la regione e tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere all'emanazione dei regolamenti proposti dall'Unione Europea di formi per questi per la salvaguardia della nuova norma vediamo ancora un altro le disposizioni della legge 161 prevedono che per i dirigenti del personale di comparto ci sia un riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore tra la fine di un turno ed il successivo delle 24 ore di riposo settimanale obbligatorio ed il divieto assoluto di superamento delle 48 ore di lavoro medie settimanali delle 12 ore e 50 minuti di lavoro continuo lasciamo questo tema e questo articolo che troverete sulle pagine del mattino ora andiamo avanti andiamo sulle pagine del Cilento e del Vallo di Diano in questi giorni si attende la ratifica da parte del presidente della regione Vincenzo De Luca che dovrebbe designare presidente dell'ente parco dopo due anni di assenza Tommaso Pellegrino l'attuale sindaco di Sassano e le reazioni da parte della politica tutte positive vediamo infatti il titolo parco coro di sia Pellegrino le reazioni dei sindaci alla designazione del nuovo presidente dell'ente con Bellis soddisfatto che considera la decisione una scelta eccellente poi arriva anche l'ok da Pisani e Dorilia Pisani il sindaco di Pollica e Dorilia presidente della fondazione Mida quindi il nome per il parco sembra essere decisamente positivo andiamo avanti un altro caso andiamo a Policastro Bussentino morte di Dorotea tre anni a Dattato Pantaleo Dattato condannato a tre anni di reclusione per omicidio colposo da Dattato il conducente dell'auto in cui trovò la morte poi Maria Dorotea di Sia il 13 maggio del 2014 l'auto si schiantò contro un muro a Bisceglie il padre della ragazza tra volte uccisa in Puglia meritava molto di più lasciamo queste pagine andiamo avanti andiamo ora invece a trattare ampiamente di sport partendo dalla prossima sfida di serie A che vedrà opporsi Napoli e Inter grande sfida al San Paolo sfida attesissima peraltro già pienone con tantissimi tagliandi venduti e vediamo che è stato intervenuto l'ex CT della nazionale italiana Prandelli per parlare proprio della sfida vediamo il suo commento Iguain re dei bomber in Europa ma la differenza la farà Amsic Prandelli e il big match Napoli Inter e gli azzurri sono straordinari per Sarri punta su un 11 titolare perché la squadra ha una vera identità mentre Mancini dice che questo non è il suo calcio lui era per la fantasia e ancora il duello Ranocchia contro Iguain nella partita della scorsa stagione qui nell'immagine questa è la gara di Coppa Italia e poi nella foto anche l'ex CT della nazionale vediamo che per quanto riguarda Amsic in un duello tra due formazioni super organizzate Amsic può essere l'uomo chiave lasciamo la pagina dedicata alla prossima gara di serie Andiamore invece in Europa perché una notizia che in un certo senso anche una notizia di cronaca Napoli Bruges per l'Europa League in programma domani sarà a porte chiusa è una decisione del sindaco perché le forze dell'ordine saranno impegnate nei controlli antiterrorismo ricordiamo che il Belgio è la nazione che al momento risulta quella più a rischio terrorismo vediamo infatti il titolo niente poliziotti a Bruges si gioca senza pubblico la decisione arriva dal sindaco quindi porte chiuse allo stadio agenti già destinati all'allerta terrorismo erano stati venduti 1200 ticket ma nessuno partirà già previsti anche i rimborsi quindi Napoli Bruges totalmente a porte chiuse ieri sera diffusa la notizia dello stop per quanto riguardava la trasferta per i tifosi del Napoli non ci saranno quindi neanche i tifosi del Bruges andiamo avanti andiamo ora ad occuparci della Serie B per la prossima sfida della Salernitana ancora una sfida importante le scelte è Franco il tappabuchi Pestrin supera Moro questo dovrebbe essere alcune delle scelte del tecnico della Salernitana per la gara per il prossimo turno di Serie B Salernitana Provercelli che si giocherà venerdì alle 21 al momento vediamo la classifica Salernitana è a 15 punti andiamo avanti l'ex Empoli è ancora fermo recupererà ma il capitano è pronto a strappargli il posto la difesa il terzino sinistro a fianco di Emperer Stracoscia confermato titolare e ancora l'idea per Torrente che studia il 4-3-2-1 modulo ad albero di Natale con Gabbio e Donna Rumma e lasciamo le pagine del quotidiano il mattino andiamo ora sulla prima pagina del quotidiano la città vediamo il titolo di apertura si parla di politica sindaco Forza Italia sceglie con il sondaggio 4 i nomi proposti Movimento 5 Stelle stop a Santoro tocca ad agosto andiamo avanti fotonotizia scuole abbandonate la protesta degli studenti la manifestazione davanti alla provincia di Salerno e poi all'ente provinciale e poi la verità sul morto al cantiere il muro di omertà è stato rotto dagli operai altri indagati andiamo di fondo il governo Renzi bonus di 500 euro ai 18 anni mentre di spalla il caso di agnosi errata in tre ospedali medici a giudizio e poi caos sanità nuove norme a rischio dei reparti doppione se non ci sarà una deroga della nuova legge alcuni reparti dei ruggi saranno chiusi continuiamo a Cava dei Tirreni fra Luigi Malato salta il processo al miracolo di taglio alto nei box furto sacrile gomistero affratte sparita la corona dell'immacolata e poi la salernitana vigilia di Natale allo stadio e polemica rimpallo di responsabilità per la decisione e ironia dei tifosi allo stadio col capitone vediamo come chiude questa prima pagina storie minime la vita in bilico dei coniugi Camarano e poi per la cultura quel che resta dei monasteri con la prima pagina della città ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria riprenderemo tra pochissimo con la seconda parte della rassegna stampa restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo sulle cronache vediamo il titolo di apertura fui violentato in chiesa la testimonianza shock del giovane italo-cileno durante il processo la furia di padre Denise mi minacciò di morte se avessi parlato il racconto in aula mette i brividi dopo il sacro cuore e le denunce il prete è trasferito a Firenze il giovane con voce emozionata ed imbarazzata riferito degli atti sessuali ai quali era costretto dal frate in più di un'occasione mi ha riferito che se non avessi ceduto alle sue lusinghe mi avrebbe fatto perdere il posto di lavoro andiamo avanti con le altre notizie sempre in primo piano il fatto doppio lavoro denuncia di Fratelli d'Italia contro di Nesta alla procura e poi tre anni tentata estorsione in pregilo condanna bis per la vitola in provincia davanti alla la sede della provincia di Salerno la manifestazione degli studenti il focaccia cade a pezzi protesta degli studenti il presidente canfora nel mirino andiamo a centropagina deposizione sciocchi in aula violentata a 12 anni la vicenda si consumò tra Ravello e Tramonti parla il perito e poi Castellammare caso Asm l'appalto vinto ma c'era lo stop di Cantone mentre a Pompei abuso edilizio del padre del consigliere Marica Sabini e a Eboli funerali privati per il padre del boss Giovanni Maiale andiamo avanti andiamo nelle pagine successive quelle dedicate alle notizie del Cilento e del Vallo di Diano in apertura si va a Tegiano ancora polemiche per quanto riguarda la mensa scolastica da parte dei tre consiglieri di maggioranza che hanno creato un gruppo all'interno della stessa maggioranza vediamo il titolo nuovo scontro in maggioranza sul caso della mensa scolastica i tre componenti del gruppo autonomo di maggioranza non ci stanno ad essere giudicati come oppositori nella maggioranza la querelle riguarda il servizio ma soprattutto il trasporto dei pasti e continuiamo a legge una parte dell'articolo continua il botto e risposta all'interno della maggioranza per la questione mensa dopo l'intervento del primo cittadino arriva la replica il gruppo autonomo di maggioranza insieme per Tegiano in risposta alla dichiarazione rilasciata dal sindaco in merito all'interpellanza sulla messa scolastica non le manda a dire i dubbi sollevati dal gruppo consigliare formato dall'ex assessore alla scuola Sonia Marino Lisa Babbino e dal consigliere Mario Baldo Trezza non devono ritenersi strumentali ad una situazione politica queste le parole dei tre consiglieri di maggioranza andiamo avanti andiamo a Santa Marina morte di sia condanna a tre anni per l'omicidio colposo per il conducente dell'auto la sentenza è messa ieri mattina presso il tribunale di Trani dopo l'incidente da dato presentava tracce di alcol e droga queste le notizie su questa pagina che interessano il territorio del Cilento del Golfo di Policastro e del Vallo di Diano lasciamo le pagine di Le Cronache andiamo a sfogliare ora invece Metropolis partiamo dalla prima pagina dedicata alle notizie di Salerno quindi dell'edizione Salerno e Provincia il titolo di apertura si riferisce all'ennesimo caso di mala sanità vediamo diagnosi sbagliata 8 a processo la 57enne Antonia 40 perse la vita all'ospedale di Salerno dopo i ricoveri a Eboli e battipaglia medici rinviati a giudizio sono accusati di aver curato un aneurisma come un semplice mal di testa andiamo avanti a Salerno rugge il rischio collasso vertice con il direttore generale entra in vigore la direttiva europea ai sindacati il personale e poco e sempre a Salerno intrigo centrosinistra rispunta Andrea l'ombra dell'ex presidente della provincia sulle grandi manovre del PD andiamo a scafati di spalla decesso allo scarlato il chirurgo non ha colpe un uomo di 77 anni ispirò dopo la conoscopia i giudici assolvono del dottor Paolo Scarpato e ancora bilancio e decadenza coppola frena a Liberti a centro pagina fratte madonna profanata portata via la corona sacra e poi sempre a Salerno blizza ancora imprenditori e commercialisti nei guai a battipaglia fratte e imam promettono stop guerre di religione mentre a Pontecagnano assegnò una casa occupata a nuova indagine su Sica le notizie dedicate allo sport si parla di Salernitana donna rumba mania i consigli del mentor e giochi falso 9 e poi in serie B Salernitana nuovi campi Fabiani proprietà al top in serie D invece la cavese e derby di coppa e Longovara il turnover questa è la prima pagina di Metropolis andiamo avanti andiamo sulle pagine dedicate alle notizie di Salerno in questo caso si parla prevalentemente della politica in vista delle prossime elezioni amministrative a Salerno l'abbiamo visto dalla prima pagina spunta il nome dell'ex presidente della provincia di Salerno Alfonso Andrea vediamo il titolo l'ombra di Andrea sul comune l'ex presidente della provincia di Salerno torna sulla scena politica e fa tremare dei lucchiani sullo sfondo c'è la richiesta di organizzare le primarie per la scelta del candidato a sindaco Alfonso Andrea si ricandida per ora solo a discutere in pubblico di politica che non ha di fatto abbandonato pur decidendo di tenere un profilo basso dopo l'ultima esperienza da senatore terminata nel marzo 2013 il suo ritorno sulla scena riapre i giochi sia nel centro-sinistra che ha preso il largo dal PD e che va dagli stessi democrat insoddisfatti all'area socialista eppure quella moderata tra Udc e nuovo centrodestra fino ad attraversare gli inquieti in Forza Italia andiamo avanti per il centrodestra la cena di Roscia è indigesta Forza Italia la linea la dettiamo noi mentre a Ravello Caos Fondazione sabato il consiglio per il dopo De Masi queste le notizie di politica ora andiamo avanti andiamo invece sulle pagine sportive parliamo delle gare di Champions ieri sera dove è stata impegnata in una gara davvero proibitiva la Roma che al camp di Barcellona ha incontrato proprio il Barcellona un risultato tennistico per la squadra che sarebbe candidata per i media sarebbe candidata alla vittoria del campionato perché viene sconfitta per 6 a 1 vince il Barcellona anche se insomma aveva peraltro questo Barcellona aveva anche altre probabilità di segnare insomma quindi in un'intervista rilasciata del dopo partita gli stessi giocatori hanno ammesso poteva andare peggio vediamo il titolo Roma umiliata ma in corsa figuraccia dei giallorossi al camp noi il Barcellona ne fa 6 Suarez la pulce doppietta discorso qualificazione ancora aperto per passare serve una vittoria contro il bate Borisov che ricordiamo nella giornata di ieri aveva già pareggiato contro l'altra squadra del Bayer Leverkusen aveva nella gara precedente delle ore 17 quindi ci sono ancora possibilità l'importante è la vittoria della Roma nella prossima gara e lasciamo anche queste pagine di Metropolis quindi lasciamo lo sport andiamo ora in Basilicata vediamo i principali argomenti per la Nuova del Sud partendo dal titolo di apertura si va in Villa d'Agri a Villa d'Agri già protesta lo tsunami sanità fa sentire i suoi effetti la proroga di 6 mesi non rassicura nessuno annunciata per martedì prossimo una manifestazione contro il depotenziamento del nosocomio Pittella sul banco degli imputati andiamo avanti giornata mondiale contro la violenza sulle donne più consapevolezza ma resta la paura e il problema di una giustizia lenta a Matera procura di Matera Placido chiede di inviare gli ispettori mentre per il caso rimborsopoli Oricchio archivia la posizione di Benedetto per lui nessun processo contabile le notizie di centro pagina Bruxelles come in gabbie il racconto di una ricercatrice Lucana nei giorni della minaccia terroristica Nichenza 32enne di Lago Negro sabato sono rimasta chiusa in casa tutto il giorno e poi a metà ponto impresa nasconde al fisco ricavi per un milione di euro mentre a Potenza Fratelli d'Italia replica a Tono a Iudicello e al PD proseguiamo sempre a centro pagina armato di un coltello da cucina si scaglia contro i vigili rifiutava il TSO in ospedale feriti due agenti ieri a Potenza per quanto riguarda invece lo sport Potenza Francaville il derby di coppa antipasto del campionato e poi in Lega Pro il Melfi riparte da Ugo Lotti queste le notizie per la nuova del sud termina qui la nostra rassegna stampa vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro TG grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie per averci seguito